Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Radio Speranza Notizie e su www.radiosperanzapescara.it Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Pubblicato oggi lo scorrimento della graduatoria di merito degli istituti scolastici che hanno partecipato alla terza edizione del bando Scuole e nuovi apprendimenti finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo Piano Operativo 2012-2013. Con altri 400.000 euro che incrementano i fondi iniziali di un milione saranno finanziati altri 16 progetti di scuole abruzzesi portando a 56 i progetti beneficiari e coinvolgendo in tutto 71 istituzioni scolastiche. Due gli obiettivi, combattere la dispersione scolastica con attività di orientamento ed ampliare l'offerta didattica per le abilità informatiche, matematiche, linguistiche, ambientali ed interculturali. Non azzardare con il gioco, pensaci, oppure il gioco è bello quando resta un gioco, pensaci. Non è la campagna di un'associazione contro il gioco d'azzardo. Sono i camion a vela che girano per Montesilvano in Abruzzo quindi pagati dal titolare di una delle più importanti sale da gioco della città che ne possiede altre sparse in tutta la regione. A raccontare l'eccentrica contro pubblicità è lo stesso gestore che lo fa ad avvenire nel quotidiano della conferenza episcopale italiana. Non è interesse di nessuno avere clienti manati, dice. Anzi, ci sembra quanto mai necessario fare azione di sensibilizzazione per ricondurre il gioco al suo ruolo naturale, uno svago che non deve creare dipendenza. Il registro imprese di Chieti, grazie alle novità introdotte, diventa ancora più trasparente. Con un nuovo volto ed elementi innovativi, entra infatti in scena la rinnovata visura camerale, il documento che contiene la descrizione aggiornata di una determinata impresa. Non solo una nuova veste grafica, ma anche un'organizzazione dei contenuti più funzionale, grazie alla quale aziende, amministrazioni, professionisti e cittadini, nella consultazione dei dati del registro delle imprese, potranno avere informazioni più chiare, complete, accessibili e garantite. La Giunta regionale abruzzese, su proposta dell'assessore all'agricoltura Febbo, ha approvato il bando per la misura 1.1.2 dei programmi di sviluppo rurale destinata all'insediamento dei giovani agricoltori. A questa misura sono stati destinati inizialmente 2 milioni di euro, ma ora si prevede di incrementare le risorse con l'uso delle economie che progressivamente matureranno sui bandi delle altre misure. Musiche dall'Irlanda nel giorno del patrono San Patrizio, quando le città irlandesi si vestono di verde in omaggio al Trifoglio ed ospitano concerti, festival e sfilate in costume. I solisti aquilani chiamano i giovani nello spazio dell'auditorium del Parco all'Aquila e propongono per questa sera ballate folcloristiche per violino e brani tradizionali all'arpa celtica. Eseguono Michele Varvaro, soprano Fabrizio De Melis, violino, e Claudia Pintao di all'arpa con Andrea De Santis al pianoforte. Una protesta senza bandiere, mentre partono i lavori del nuovo padiglione al carcere di Sulmona, agenti di polizia e sindacalisti in Sittin lamentano carenza di organico e turni che minacciano la loro salute. 240 agenti per 500 detenuti di alta sicurezza. Il padiglione ne ospiterà altri 200, dice Nardella della Will Penitenziari, e arriveranno 90 agenti con famiglie che faranno crescere l'economia. Ma l'amministrazione penitenziaria ci dia i mezzi per lavorare in maniera decorosa. Il polo Agire prosegue l'attività di promozione dell'agroalimentare d'Abruzzo all'estero e a Proda in Slovenia per partecipare al secondo marketing internazionale del progetto Elma TP, che sta per Europe Local Manufacturers Training Platform, di cui sono partner italiani anche la società Keyshift e Pixel Association. Il progetto, guidato dal governo turco di Bursa, vuole promuovere l'intera produzione tipica locale delle nazioni coinvolte e nello stesso tempo ampliare le vendite sui mercati internazionali, creando occasioni di lavoro. Il meeting si terrà a Ljubljana da oggi al 21 marzo e si svilupperà attraverso una serie di incontri. Il polo turistico Marina di Pescara rischia la chiusura se non riprenderà il dragaggio. Già persi i 2 milioni di euro per non aver potuto ospitare, causa fondali bassi, l'Europeo di Vele e i mondiali. L'allarme arriva da Francesco Di Filippo, che è il presidente di Astronautica Pescara. Dovremmo portare le barche al porto canale, dice. Il comune di Spoltore indice una selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e determinato di un dipendente con la qualifica di istruttore direttivo tecnico categoria D responsabile del settore quarto urbanistica ed edilizia. Il contratto durerà non più del mandato del sindaco. Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione scaricabile dal sito dell'ente entro il 27 marzo con una delle seguenti modalità PEC personale all'indirizzo protocollo chiocciola pec.comune.spoltore.pe.it o raccomandata comune di Spoltore via di marzio 66 65 010 Spoltore oppure consegna a mano all'ufficio protocollo generale del comune di Spoltore. E domani si terrà il consueto ritiro mensile del clero diocesano di Pescara Penne previsto all'Osi dello Spirito in Montesilvano. Questo incontro cade nel tempo di Quaresima e quindi sarà un ritiro spirituale. Alle 9.45 è prevista la recita dell'ora terza, alle 10 la meditazione, alle 11 l'adorazione eucaristica e le confessioni per chi lo desidera, alle 12 il pensiero conclusivo e la benedizione eucaristica, alle 12.20 gli avvisi e alle 12.30 il pranzo. Sono costretto ancora una volta, scrive Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, ai presbiteri, diaconi e religiosi dell'Arcidiocesi di Pescara Penne, a richiamare tutti i presbiteri alla presenza, a questo nostro appuntamento mensile e ad arrivare con puntualità. E anche questo un modo per rispettarci individualmente e fare comunione. Si terrà domani alle 18 alla Sala Figlia di Iorio della provincia di Pescara il convegno sul tema Internari e Civili, conferenza di Giuseppe Perri dell'Università Libro di Bruxelles e autore del volume Stato d'eccezione, l'internamento dei civili nel secondo conflitto mondiale in Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti e Italia, uno studio comparato. L'evento è organizzato dalla Biblioteca Provinciale di Pescara. E siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e Provincia si prevede cielo sereno con temperature da 12 a 14 gradi e mezzo e venti deboli. Domani si prevede cielo sereno con temperature da 9 a 21 gradi e mezzo e venti deboli. Il mare è previsto quasi calmo stasera e da quasi calmo, poco mosso, domani. Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Vi ricordiamo che la nostra emittente, Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.